Andiamo al segno dell'acquario, certo questo sole nel segno del cancro non è più incisivo come il sole nel segno dei gemelli però è un sole che vi permette di sistemare tante questioni che hanno a che fare con il lavoro, con la vita quotidiana, con la vita familiare è un sole che riesce in qualche modo ad organizzare meglio la vostra vita perché voi sarete più precisi, più attenti anche ai particolari e vi aiuta anche nel rapporto con il partner, tante volte voi vi stancate facilmente di quella che è la routine anche della vita di coppia attraverso questo sole vicino a Venere anche le piccole gioie quotidiane per voi avranno una grande importanza chiudiamo con il segno dei pesci perché questo è un sole meraviglioso